Per Sabatore Castellana, Presidente del Comitato Civico Pro Ospedale Canicati, è stato sempre un cavallo di battaglia, ha portato avanti diverse iniziative, campagne di protesta e continua a farlo adesso che fa parte di una lista civica uniti per Canicati. Benissimo, noi da diverso tempo come Comitato Civico abbiamo portato avanti veramente una battaglia perché il nostro ospedale, il Barone Lompardo, l'ospedale che appartiene a tutti, potesse funzionare ed avesse il ruolo che merita perché copre un comprensorio di oltre 240.000 abitanti a cavallo tra due province, la provincia di Agrigento e di Caltanesset. Purtroppo, nonostante noi ci siamo spesi attraverso le manifestazioni, venendo qui in televisione a parlare di tutte le porcherie che si perpetano a danno di questa nostra struttura, purtroppo noi non abbiamo mai ottenuto niente perché la direzione sanitaria poi è nelle mani dei politici locali, i quali sono assenti e io lo devo dire, ora a giugno ci saranno le votazioni e questi signori che non ci sono mai interessati del nostro ospedale, della sanità, una struttura che appartiene a tutti. Noi abbiamo fatto una battaglia per far riammettere la rianemazione a Canicattì, abbiamo fatto una battaglia per potenziare il pronto soccorso che è un inferno, un inferno, prima di andare a votare, di dare il voto a questi signori, passate dal pronto soccorso e vi rendete conto di quello che c'è al pronto soccorso di Canicattì. E poi non parliamo degli altri reparti. La cardiologia, ci sono due stanze, due stanze che servono tutte e due per gli uomini e per le donne. Tutte e due. Noi vogliamo che anche la cardiologia sia attenzionata. È uno dei fiori all'occhiello del nostro ospedale, di questa struttura ospedaliera. E deve funzionare come si deve. Le donne devono essere ricoverate in apposite stanze e gli uomini in altre stanze. No, ammassate come bestie. Uomini e donne nella stessa stanza. Questo noi vogliamo. Domani saremo davanti alla villa comunale. Noi ci andremo a spendere anche politicamente attraverso questa lista, insieme per Canicattì, per vedere di cambiare le cose. Non ne possiamo più di questa classe politica che si fa avanti soltanto in periodi elettorali. Vergogna, vergognatevi. Noi vogliamo che l'ospedale funzioni e faremo una battaglia. Metteremo a ferrare poco Canicattì pur di salvare una struttura che serva a tutti. E chiudo il mio intervento. La rianimazione deve funzionare, deve funzionare subito. E che nessuno mi venga a dire non si può, non si può. Il piano sanitario regionale è stato approvato. Perché la direzione sanitaria non manda alcuni anestesisti per aprire subito la rianimazione che servirà a salvare tante vite umane cittadine. Domani saremo davanti alla villa comunale per manifestare questa situazione che riguarda l'ospedale. Una struttura che riguarda tutti. Grazie a tutti.